ospite di oggi il dottor marco donghi che è direttore generale di stf luterios grazie di essere con noi grazie a lei di questa possibilità l'azienda è specializzata nella lavorazione e saldatura dei metalli della progettazione e costruzione di scambiatori calore recipienti impressione sistemi di filtrazione dell'aria per il settore energetico nucleare all'ingas chimico nautico e minerario dottor donghi dopo due anni possiamo dire complicati per la vostra azienda nel primo semestre del 2023 ha sancito una sorta di rinascita può spiegarci il segreto di questo cambiamento ma direi che la parola chiave del cambiamento è identità che per noi ha tre accezioni fondamentali identità di marchio di prodotto e di persone che costituiscono questa azienda marchio perché abbiamo fatto nostre l'eredità delle tre grandi aziende costituenti questa società quindi stf di cui portiamo con onore il marchio per gli scambiatori di calore nel nucleare molte sono le centrali nucleari in francia con i nostri componenti e nel power con i condessatori non ultimo il condessatore che abbiamo installato a portocorsini in centrale enel abbiamo poi il marchio loterios con noi storica realtà lombarda famosa nell'ambito dell'utilizzo di leghe speciali titanio zirconio tutti i materiali che oggi sono molto molto importanti e infine la parte di perugia che vantava con sé il marchio spx poi balkedur che porta un incredibile know how in termini di produzione delle camere filtro che sono componenti essenziali delle turbine a gas l'identità di marchio per noi è stato il driver del cambiamento cioè abbiamo ci siamo focalizzati su quelli che erano diciamo i componenti il core business di questi tre marchi la vera identità e su questo abbiamo puntato in termini commerciali da qui l'altra accezione quella di prodotto facciamo solo dei prodotti di cui vantiamo un fortissimo know how di cui sappiamo i nostri clienti gradiscono la qualità che siamo in grado di produrre e infine identità di persone perché questa è un'azienda fatta di persone persone che hanno creduto nel progetto hanno messo tutto a se stessi e hanno messo un'incredibile cura in tutto quanto dalla parte commerciale alla parte esecutiva nel 2022 siete stati entrati a far parte di la realtà ccapital spesso però forse anche erroneamente si pensa che i fondi di investimento entrino nelle aziende solo a titolo speculativo sembra invece nel vostro caso che la storia sia ben diversa ma su cosa si basa questo nuovo piano questo nuovo rapporto ci capita il come società di investimento ha acquisito a fine del 22 il 100 per cento delle nostre delle nostre quote con si capita la differenza sta nel fatto che siamo tornati anzi per prima volta abbiamo iniziato a parlare di futuro quindi non più solo i classici temi di ristrutturazione classici intendo per i fondi di investimento ma pianificare il futuro con loro siamo riusciti innanzitutto ad appianare i problemi del passato non ultimo il deposito dei bilanci ma soprattutto abbiamo creato una business plan quindi un piano d'azione per i prossimi anni basato su investimenti su internazionalizzazione su il ritorno del nostro marchio sui mercati di riferimento quindi quello che è stato il vero cambiamento è proprio l'intenzione di parlare del futuro lo ha detto prima dottor donghi voi fate prodotti a lavorazione ad altissimo valore aggiunto e con metalli abbastanza rari interessanti come il titanio le chiederei come sta andando il mercato e siamo ormai a novembre può darci qualche anticipazione sulla chiusura del 2023 e perché no sulle aspettative del 2024 certo la società fa parte del settore della caldereria pesante un settore che si compone di due grandi famiglie i generatori di vapore e la produzione di componenti a pressione a parecchia pressione scambiatori noi siamo in quest'ultima parte il settore sta andando bene ha recuperato sostanzialmente i valori di produzione pre covid ed è trainato fondamentalmente dalle export l'italia secondo l'ultimo studio della cga di mestre sul settore è il quinto esportatore di caldereria pesante al mondo come tale la stf lotterios gode sostanzialmente dell'export un export di nicchia noi siamo soprattutto nei settori del petrolchimico investimenti sull'lng nel mare del nord stanno trascinando i nostri scambiatori in titanio e dal nucleare in particolare il nucleare europeo quindi l'edf grande diciamo produttore di energia nucleare francese sta investendo in nuove centrali in francia stessi investimenti in polonia per esempio in inghilterra tutte queste nuove centrali nucleare hanno componenti che ci possono riguardare e questo è sostanzialmente il nostro driver per quanto riguarda i risultati del 2023 dopo due anni di perdite dovute alla ristrutturazione dell'azienda siamo finalmente a break even arriveremo sicuramente in in pareggio e abbiamo seminato per il 2024 il 2024 grazie agli investimenti nei settori riferimento è positivo sicuramente sarà positivo per tutto il settore e ritengo in particolare per il mondo del titanio dello zirconio del tantaglio del nickel che sono sostanzialmente gli elementi materiali su cui noi abbiamo la nostra forza l'ha detto lei avete trovato l'equilibrio sul conto economico e adesso parliamo di investimenti su cosa intendete puntare e magari si vi potete ampliare visto la grande quota di export anche nuovi mercati investimenti nel nostro settore sono essenziali sicuramente investimenti sui macchinari in modo da portare lavorazioni di altissimo livello automatiche ma soprattutto aumentarne la qualità quindi la società conta di investire su entrambi i siti in macchinari e poi contiamo sicuramente di investire nella parte commerciale marketing intendiamo aprire nuove sedi nei mercati di riferimento all'estero in particolare nell'area mea e nell'area degli stati uniti quindi questi sono i due grandissimi settori dove tenderemo a investire negli anni prossimi in bocca al lupo per questo progetto grazie mille grazie grazie mille a lei per essere stato è stato un piacere a tutti grazie grazie mille grazie mille Grazie a tutti.